Ci sono comunque situazioni opposte a quelle di Icona. In 13 comuni dell'Alto Vicentino funziona il sistema di accoglienza per piccoli nuclei di migranti distribuiti sul territorio. Capofila di questa retta è Sant'Orso. Luca Colombo, il servizio. Scuola d'italiano, capirsi spezza l'isolamento. Corsi professionali di sartoria, il lavoro riempie di dignità l'attesa indefinita di un futuro. E le borse e gli abiti hanno un mercato. Gli spazi della Onlus Il Mondo nella Città, a Schio, fanno da punto d'aggregazione. Snodo operativo della rete d'accoglienza di 13 comuni dell'Alto Vicentino. Capofila Sant'Orso. Una settantina di persone per gruppi ridotti in vari alloggi. Esempio da seguire l'Anti-Cona. Il sindaco Franco Balzi, lista civica, 31 anni nella cooperazione, l'ha appena presentato in Vaticano. La piccola Sant'Orso, insieme a Cona, ha confronto con Londra e Parigi, Barcellona, Colonia. Mentre spiega, lo chiama il sindaco di Bagnoli, altra ex base, 800 ospiti, lo invita a un incontro. Il modello è lo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, nato con la guerra nei Balcani. I punti di forza. Governo diretto dei percorsi, individuazione di un soggetto gestore serio, affidabile, competente. E soprattutto una quantificazione numerica che permette la sostenibilità delle accoglienze e dei successivi percorsi di integrazione. Vincola il prefetto a rispettare quel territorio che ha scelto di impegnarsi direttamente, non superando quel tetto concordato. La chiusura categorica frutta sì consensi immediati, ma alla lunga ormai non mette al sicuro dall'eventualità che una prefettura alle strette cari di colpo ovunque decine di fuggiaschi. La stessa Sant'Orso ne ha fatto esperienza con 90 persone in albergo. L'ospitalità diffusa vince sull'improvvisazione. Confondere uno stato di cose con l'emergenza innesca miscele esplosive. Dove una comunità è in grado di accogliere un numero limitato di persone, proporzionato al numero di abitanti, crea anche le condizioni per la loro reale integrazione.